Questo video è dedicato a tutte le donne che in questo momento stanno lottando contro i chili in eccesso e il mio consiglio è di guardarlo fino alla fine. C'è un'importante novità scientifica ancora poco conosciuta in Italia che permette di dimagrire velocemente mangiando di tutto senza stare a dieta e senza fare ore e ore in palestra. Se ancora non mi conosci sono Simona Vignali e da oltre 25 anni creo percorsi e programmi naturali supportati dalla scienza per mantenere la forma fisica e la salute aumentando l'energia, l'autostima, la vitalità. Molte donne mi scrivono perché non riescono a dimagrire nonostante la dieta, il fitness, i sacrifici, le rinunce. Non importa se provano con il fai da te, i nutrizionisti, i personal trainer, gli integratori, i beveroni, il peso rimane bloccato addirittura aumenta e a volte inspiegabilmente. A tutte rispondo che un motivo c'è sempre e anche una soluzione. Il mio programma è 100% naturale, semplice da seguire, piacevole ed efficace per le donne di tutte le età. Non si tratta di farmaci integratori, non si tratta di fitness e meno che mai di un regime alimentare restrittivo e frustrante. Lo possono confermare le centinaia di donne che solo negli ultimi anni sono dimagrite con me partendo da tante situazioni diverse. Tutte hanno raggiunto il peso ideale in un modo che mai avrebbero immaginato e oggi sanno come non riprendere più i chili persi anche dopo settimane, mesi e anni. E soprattutto hanno tenuto tutto questo sentendosi rinate, ringiovanite, con tanta più energia, piene di autostima e sicurezza. Per sapere di cosa si tratta ho creato un evento che terrò in diretta il 22 marzo. Per partecipare puoi registrarti dal link abbinato a questo video. Condividerò il sistema con cui ogni donna può finalmente riprendere il controllo del peso e dimagrire senza dieta e senza riprendere mai più i chili persi. Interessante? Clicca il link abbinato a questo video e registrati gratis all'evento che terrò in diretta il 22 marzo. Ti aspetto!